ragazzi essi come avete potuto vedere dal titolo del video 101 iscritti sus no? molto sus aspettate ragazzi guardate 100 iscritti ma li devo spuntare una prima cosa si ragazzi 101 iscritti è vero questo qua quindi era solo un avvertimento beh ragazzi era tutto per questo video era solo un video avvertimento ciao